Natale a rischio, Babbo Natale purtroppo ha avuto un grande problema proprio qui a Salso Maggiore Terme di fronte alle Terme Berzieri, guarda cosa è successo Hai visto purtroppo una cosa veramente spiacevole, ma 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 c'è Foto Digital Salso per i tuoi regali di Natale Se Babbo Natale non riuscirà a fare tutte le consegne potrai venire comunque qui a scegliere e a cercare il tuo regalo di Natale personalizzato Oltre ai tantissimi fotocalendari disponibili in tutte le tipologie a foglio singolo o 12 mesi multipagine anche da tavolo trovi da Foto Digital un grandissimo assortimento di prodotti da personalizzare con le foto Cuscini, tazze, puzzle, tappetini per il mouse, grembiuli, magliette, stampe su pietra lavica, su pannello, su tele e tantissime tipologie in più, centinaia di idee che puoi personalizzare con le tue foto preferite e la foto puoi anche inviarla tramite whatsapp, puoi portarla qui da noi su una chiavetta oppure mandarcela anche via mail o come preferisci Vieni da Foto Digital, ti aspetto, siamo di fianco al municipio di Salso Maggiore Terme e puoi trovare tantissime idee, regalo da personalizzare con le tue foto preferite e se proprio fai tardi, vabbè, una bellissima cornice con una foto, anche questo un regalo splendido Sono Matteo, ti aspetto da Foto Digital